Buonasera e bentrovati a questo appuntamento con l'informazione di Icaro Tg, i titoli principali dell'edizione di oggi. I corpi di una coppia e di un adolescente trovati senza vita in un appartamento a Misano, lo scenario è quello di un omicidio-suicidio, ma con due ipotesi diverse al vaglio degli inquirenti. A Villaggio Argentina, teatro della vicenda, lo sgomento per una tragedia di cui non ci si è accorti per quasi due mesi il dolore delle amiche della figlia quindicenne. Non ce l'ha fatta l'ex maestra riccionese, travolta due giorni fa da un'auto in via Catullo, l'ottantenne è morta a Bologna questa mattina. Sul Corriere della Sera l'intervista Postum, rilasciata cinque anni fa da Anita Eckberg, che stroncava umanamente e professionalmente Fellini, ingrata è il commento della nipote del regista. Pochi mesi dopo l'omicidio-suicidio in una famiglia di Cattolica, da Misano arriva la terribile notizia di una tragedia simile. Ieri sera nella frazione Villaggio Argentina sono stati ritrovati tre corpi senza vita per capire cosa sia davvero successo, si aspettano elementi dalle autopsie che saranno effettuate domani, ma a inquietare è anche il fatto che della morte di un uomo, una donna e un adolescente non ci si sia accorti per quasi due mesi. Per ora l'unica certezza sulla tragedia del villaggio Argentina sono le vittime. La 44enne Adriana Andrea Stadie, sua figlia di 15 anni, Sofia Annette, studentessa, entrambe argentine con passaporto italiano e il compagno della madre, Alvaro Alonso Serda Sedegno, di 35 anni, equadoregno. Sulla data dei decessi le prime stime parlano addirittura di 50 giorni fa. Sulle cause e sulla dinamica gli inquirenti da ieri sera stanno cercando di ricostruire quanto accaduto nell'appartamento di via Vanzetti, vicino alla chiesa. Ieri pomeriggio sul posto è arrivato un carabiniere, padre di un'amica di Sofì preoccupata per la mancanza di notizie. Quando si è accorto che qualcosa dentro non andava, ha chiamato i colleghi e i vigili del fuoco che hanno forzato la porta per poi trovarsi di fronte all'orribile scena. Madre e figlia erano in camera, adagiate sul letto matrimoniale, non presentavano ferite evidenti. L'uomo era invece disteso a terra, vicino alla porta d'ingresso, e presentava una profonda lacerazione ai polsi. Anche il cane è stato trovato morto in casa. Il quadro è quello di un omicidio suicidio, ma se nelle prime ore sembrava che l'autore potesse essere stato l'uomo alle prese con problemi economici, che avrebbe soffocato, intossicato compagna e figlia per poi togliersi la vita, oggi si fa strada all'ipotesi che possa essere stata invece la donna, già in cura ai servizi di igiene mentale, che avrebbe premeditato il suicidio suo e della figlia con dei farmaci. Quando lui le ha trovate morte avrebbe preferito farla finita. L'uomo lavorava come aiuto cuoco, la compagna invece collaborava con una pasticceria. Il cake design era la sua passione. L'ultima volta che erano stati visti era il 21 novembre. L'auto era in zona parcheggiata, chiusa, ma fuori dalla vista dei vicini. Un altro elemento che ha contribuito a far pensare che fossero partiti anche il padrone di casa, che vive nella stessa palazzina, non capiva il perché da quella famiglia non arrivassero più segnali, ma senza pensare a un'ipotesi del genere. C'era anche la buchetta della posta, con diverse lettere della scuola della quindicenne, il Belluzzi di Rimini, che segnalavano alla famiglia l'assenza prolungata. La scuola si era rivolta anche al comune di Misano, agli agenti della polizia municipale nessuno aveva aperto in quella casa, così come nessuna risposta era arrivata la chiamata a uno dei cellulari. Al comune non era arrivata nessuna segnalazione di disagio su quella famiglia che viveva a Misano da un anno. E oggi era grande lo sgomento a villaggio Argentina, tranquilla frazione di Misano, ai confini con Riccione. Gli abitanti di via Vanzetti, dove si è consumata la tragedia, parlano di una famiglia riservata e tranquilla. C'è poca voglia di parlare in via Vanzetti, il giorno dopo il rinvenimento dei tre corpi privi di vita di Adriane e Sofista Die e Alvaro Cerda, nella villetta da loro presa in affitto alla Civico 35. I vicini parlano di una famiglia riservata, tranquilla, con un cane e un gatto. La padrone di casa racconta della crescente preoccupazione per le lettere rinvenute nella cassetta della posta, scritte dalla segreteria dell'Istituto per Geometri Belluzzi di Rimini, frequentato da Sofì, per la prolungata assenza della ragazza. Ma nulla lasciava sospettare che dietro quelle assenze si celasse la tragedia. Mi sono messo in casa, non si sa. Quindi li conosceva solo, diciamo, di vista? Sì, sì, sì. Non si sa niente, non si è capito niente, comunque i morti sono lì, erano lì. Insomma, dai, ma se si vuole ammazzare, almeno la ragazzina poverina. Buongiorno e buonasera, basta. Ciao, ciao, erano sacevoli, passavano, ti salutavano, non erano persone, anzi avevano un cagnolino che si infilava sempre qui, Chico, vieni, vieni, vieni. Ma mai sospettato di una cosa del genere. Se si chiedeva, c'era la ragazzina, andava alla scuola, però per le feste vanno tutti via, loro essendo stranieri si pensava che fossero andati via anche nel suo paese. Lei li conosceva? Li viste, comunque, di fronte li vedevo andare avanti e indietro, così. Ho visto che ogni tanto pulivo l'orto lì, che tagliava la siepe, l'erba, però non ho avuto in contatto di dire come sta, come ne sta, da dove viene. Che impressione le avevano dato? Era una famiglia affiatata, sembrava così, però non posso dire il suo e il lido perché avevano di loro. Secondo quello che posso valutare io, era una famiglia tranquilla. Li incontravamo fuori a spasso col cane, come tutti, venuti da fuori, gente venute da fuori, che non è che si conoscono personalmente, però così dal di fuori come altri, niente di particolare. Infatti siamo rimasti tutti molto colpiti e addolorati dalla cosa, insomma, dal fatto che è successo. Avevano anche un gatto oltre a un cane? Infatti quello che a me ha colpito di più di tutti è vedere questo gattino che comunque rimaneva sulla finestra così e vedere tutte le finestre chiuse e lì ho detto ma mi sembra un po' strano che siano andati via e abbiano lasciato il gatto che comunque era come una cosa che era come il cane, insomma, come una cosa che loro a cui tenevano come il cane, quindi era quello che ci ha lasciato un po' perplessi. C'era anche lo stendino che è rimasto fuori? Lo stendino con i panni fuori, non molti ma con dei panni e non dava l'impressione che fossero andati via in vacanza. Davanti al Civico 35 c'erano anche alcuni ragazzi, gli amici di Sofia Annette, che con le lacrime agli occhi hanno ricordato la ragazza sempre pronta ad aiutare chi era in difficoltà. Sofia Settembre aveva anche partecipato al campo di azione cattolica sulle Dolomiti con le parrocchie di Fontanelle e San Lorenzo di Riccione. Io la conoscevo da più o meno 11 anni, quindi abbiamo passato tutta la vita insieme e, cioè, è un po' strano venire a scoprire da un momento all'altro che, cioè, non c'è più. Cioè, io, cioè, io l'ho saputo anche, c'è una mia amica che all'inizio era scomparsa così, poi dopo abbiamo cominciato queste varie ricerche, i parenti in Argentina che la cercavano, noi che aiutavamo. solo che, cioè, io dico, dopo un mese e mezzo c'è una persona un po', sì, cioè, dice, su, entriamo in casa, vediamo se magari hanno lasciato qualcosa. Solo che io, cioè, io non capisco. Ho capito che magari saranno dei problemi in casa, però, cioè, dico, fino ad arrivare a questo punto, cioè, non ce n'era motivo. Poi dopo, io non so magari come sono andate le cose. Io so solamente che dei problemi c'erano, però, non so molto, però arrivare fino a questo punto è qualcosa di esagerato. Io mi ricordo che, cioè, tipo, la Sofì fino a quest'estate che era, cioè, era sempre felice, appunto, sempre con il sorriso. Cioè, abbiamo passato un casino di tempo insieme, ora, venire a scoprire sta cosa è un po' strano. Cioè, la mancanza si sente, già prima si sentiva. Se prima già ci mancava un po', adesso sicuramente ci mancherà anche di più. Ci ho parlato dopo di una festa, parecchio tempo, cioè, per un bel po' di tempo, poi dopo non ci siamo più sentiti, così, però non pensavo che sarebbe successa sta cosa. Che ragazza era, Sofì? Ma, apparentemente sembrava una ragazza tranquilla, solare, sempre col sorriso si vedeva. Cioè, era una bella ragazza in tutto, penso. Io ho fatto gli elementari con lei e, insomma, era una ragazza abbastanza anche sicura di sé, forte, simpatica, aiutava sempre anche gli altri. Tipo, avevi un problema, lei c'era. Lasciamo questa grave vicenda in attesa di sviluppi per parlare, purtroppo, di un'altra tragica notizia. È morta questa mattina intorno alle 5 all'ospedale Sant'Orsola di Bologna, dove era stata trasportata dall'elisoccorso in condizioni disperate l'ottantenne Maria Lucia Antonioli, l'insegnante riccionese in pensione. Travolta, due giorni fa, in via Cattullo, a Riccione, l'Antonioli era molto nota in città per aver insegnato a lungo alle medie Manfroni. Ancora non è stata fissata la data dei funerali. La salma non è ancora a disposizione della famiglia, almeno fino al pomeriggio, a investirla la chia picanto condotta da un anziano che non si è accorto della donna che attraversava le strisce a piedi, forse a causa anche del sole negli occhi del conducente. E parliamo della vicenda Eradria. Vi abbiamo già detto ieri delle novità sull'inchiesta dalla Procura. Emergono nuove ipotesi d'accusa a carico di 9 indagati. Intanto, l'ex presidente della provincia Fabri si chiama fuori dal crack della società di gestione dell'aeroporto. Alla fine del suo mandato nel 2009, dice, il Fellini era in ottima salute. Per i 9 indagati sul fallimento di Eradria spuntano nuove accuse. Oltre all'associazione delinquere per bancarotta, vengono contestati abuso d'ufficio, ricorso fraudolento al credito e truffa aggravata. Gli inquirenti indagano infatti sull'ipotesi che siano stati illecitamente ottenuti finanziamenti dallo Stato e dall'Europa, che sarebbero arrivati a società collegate e sarebbero stati usati per ripianare i debiti di Eradria. Escluso comunque che gli indagati si siano appropriati delle somme in questione. I 9 coinvolti, come detto, sono l'ex presidente Eradria Masini, gli ex dirigenti Vannucci e Giorgetti, il sindaco Gnassi, il suo predecessore Ravaioli, il presidente della Fiera Cagnoni, l'ex presidente della Camera di Commercio Maggioli e gli ex presidenti della provincia Vitali e Fabri. Proprio quest'ultimo interviene oggi sull'inchiesta spiegando di aver appreso solo ieri di ritorno da un viaggio all'estero del suo coinvolgimento e delle gravi accuse. Fabri, come detto anche dall'ex sindaco Ravaioli, spiega di non essere mai stato ascoltato dalla procura e di non sapere quale dovrebbe essere il suo ruolo nella vicenda. L'ex presidente ricorda poi un Fellini in ottima salute sotto il suo mandato, conclusosi nel maggio 2009. Nella sua ultima assemblea a Eradria era stato approvato il bilancio consuntivo 2008, dice, con ottimi risultati in termine economico e di passeggeri. Massima fiducia comunque nella magistratura riminese. Ieri intanto il procuratore capo Giovagnoli, rispondendo ad alcune sollecitazioni arrivate anche dalla politica, ha spiegato che l'inchiesta sta seguendo il normale ITER e gli indagati potranno chiedere di essere sentiti, presentare memorie o chiedere l'archiviazione. L'europarlamentare del 5 Stelle a fronte annuncia invece un'interrogazione alla Commissione europea per capire le conseguenze per gli enti pubblici che risultassero coinvolti. Con gli attuali bilanci, dice, rifondere i soldi all'Unione europea sarebbe pericoloso per la stabilità economica degli enti stessi. Ieri sera, nella prima seduta del nuovo anno, in Consiglio Comunale a Rimini si è parlato di Jobs Act in una seduta tematica, respinte le due mozioni presentate da Pazzaglia, Brunori e Tamburini, col voto contrario, quasi compatto, della maggioranza. Per Gianluca Tamburini del Movimento 5 Stelle, il centrosinistra ieri sera ha perso la faccia. Dicono noi siamo la sinistra e siamo dalla parte dei lavoratori e poi votano contro le richieste di dignità per i lavoratori e di un incontro con le parti sociali, ricorda Tamburini. Nella seduta di martedì prossimo, un'altra seduta tematica, si parlerà degli asili nido comunali. Si sono svolti questa mattina nella chiesa evangelico luterana di Via Sicilia a Roma i funerali di Anita Ekberg. Le spoglie dell'attrice saranno cremate e le ceneri, per sua volontà, saranno portate nella sua città natale, Malmo, in Svezia. Ma in queste ore è a fare notizia anche l'intervista pubblicata dal Corriere della Sera, in cui la Ekberg 5 anni fa stroncava Federico Fellini e che aveva chiesto fosse pubblicata solo dopo la sua morte. Un'ingrata, commenta la nipote del maestro Francesca Fabri Fellini. Fellini non aveva rispetto delle donne. Affamato di sesso chiedeva prestazioni particolari. Era stato attirato non tanto dalla mia anima, ma dal mio seno. Un'intervista al vetriolo, quella che Anita Ekberg ha rilasciato al Corriere della Sera con la richiesta che venisse pubblicata solo dopo la sua morte. Era un tipo molto esigente quando dirigeva incline ad improvvisi attacchi d'ira, diceva l'attrice. Sul set era un padrone assoluto, apparentemente gentile, in realtà era un despota, in privato un disastro. E poi altri passaggi impietosi. Quello che mi dava fastidio è che lui era falso, voleva apparire diverso da ciò che era. Non era coerente, parlava male di tutti, ricordo che aveva parole sprezzanti per Rossellini e Antonioni. Dimostrava poi di essere assolutamente razionale. Tutti sanno che era fissato con maghi e veggenti, come una donnetta, diciamola tutta, era un provinciale. Dalla Ekberg stroncature anche professionali. Per la scena della fontana di Trevi forse deve più lui a me che io a lui. Era uno che carpiva idee agli altri, persino all'ultimo dei macchinisti. A commentare le parole di Anita Ekberg, la nipote del maestro. L'uomo che descrive la signora Ekberg, ritengo che non sia l'identikit della persona che io ho conosciuto. Un uomo che ti ha reso attraverso una pellicola cinematografica immortale, come oggi possiamo vedere sulla fontana di Trevi, anche il manifesto che è stato issato a memoria. Mi sembra che la signora abbia avuto un atteggiamento di ingratitudine nei confronti di chi le ha donato l'immortalità. Io credo che Federico non abbia bisogno delle dichiarazioni della signora Ekberg per essere ricordato in maniera bella, in maniera brutta. Lui ha lasciato i suoi film e le sue pellicole, quindi sono loro che ce lo ricordano continuamente. A me non fa né caldo né freddo leggere le dichiarazioni della signora Ekberg. Pace all'anima sua. Siamo al calcio e Rimini ha ingaggiato in prestito fino a giugno l'esterno d'attacco Pasquale Mazzocchi, classe 1995, Mazzocchi arriva dal Verona. Nella prima parte di stagione il neo bianco-rosso ha collezionato 5 presenze con il pro Piacenza in Lega Pro, per lui lo scorso anno anche 12 presenze col Bellaria. Intanto l'attaccante Simone Adessi da Rimini torna invece al Parma che ne detiene il cartellino. Sempre in tema di calcio, il Tribunale Nazionale Antidoping ha inflitto a Danilo Chiodi, attuale preparatore atletico del Cesena, due anni di squalifica. A partire dal 13 gennaio di quest'anno, con scadenza, il 12 gennaio 2017, l'ex preparatore atletico del Rimini, infatti al periodo in cui Chiodi era in bianco-rosso, dovrà pagare inoltre una sanzione economica accessoria di 1000 euro, due anni e dieci mesi di inibizione invece all'ex difensore bianco-rosso del Rimini, Emiliano Milone, anche per lui una sanzione economica accessoria di 1000 euro. I fatti risalgono quando Rimini era in serie B. È tutto a seguire il meteo. Vi ricordo il nostro sito di informazione newsrimini.it. Grazie per averci seguito e buona serata. Grazie per averci seguito e buona serata.